Sulla base del fatto che giustamente avete fatto, sulla base del fatto che la risposta è intrinseca nei fatti, non è roba che dovrebbe riguardarvi perché è il vostro punto chiave. Cecconi, lei continua a... Per favore, allora, le illustrate dopo, le illustrate dopo. Scusi, 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 le mandi a chiacchere da parte. Allora, allora, forse non è chiaro che il Consiglio lo presiedo io. Decido io, anche se invertire un tempo, i tempi che gli do comunque se decidono invertire gli inventi. Va bene? Non vedo nessuna lesione della democrazia, né di alcun diritto perché vi do comunque i tempi.